E certo che mi hanno abbandonato, che qua sono rimasta, senza fare niente, muta così, sopra un letto, che loro sapevano che io abitavano l'ultimo piano. Quindi io ero convintissima, non convinta, convintissima, che uscendo dai pellegrini io andavo in una struttura. Ho chiamato mia cognata, ho detto corri subito perché devo andare all'ospedale. Come sono arrivati i pellegrini, vabbè, pronto a soccorso, mi sono trovata con la ganglena, che è dovuta alla ganglena, mi sono trovata mezzo piede di corte e mi hanno cominciato a fare accettamente tutto. Qui è arrivato il chirurgo, quello che mi doveva operare, mi ha detto signora, forse dobbiamo togliere il piede, ma comunque le prime le dita sono morte, mezzo piede è già morto. 58 anni ho, facevo la baby sitter, fino all'ultimo l'ho fatta, con tutta l'immensione. Sono salita a lavorare perché volevo essere idoneo, ma non pensavo di avere una cosa del genere, proprio grave, grave, grave. Però lei è stata portata direttamente qua a casa sua. La sociale lo sapeva che io non potevo stare su casa mia, che loro sapevano che io abitavo all'ultimo piano. Quindi io ero convintissima, non convinta, convintissima, che uscendo dai pellegrini, io andavo in una struttura, ma nemmeno a fare fisioterapia perché era molto presto, ma almeno a curarmi. Invece è qua a letto a casa sua, all'ultimo piano. Senza Fani, muta così, sopra un letto, la signora che mi viene a fare le pulizie, io non mi posso muovere da letto, ma a me non servirebbe nemmeno H24. A me servirebbe qualcuno che mi sostegna e dice, signor state 40, state bene, che mi rassicuri. Quella è la cosa più importante che io mi scatta nel cervello. E certo che mi hanno abbandonato, perché qua sono rimasta. Viene uno e mi dice, non ti preoccupare, cercheremo un passo. Viene un altro, non ti preoccupare, stiamo cercando una sendera per mettersi dentro. Ma io ormai non credo a più niente. L'altra volta mi è stato detto, qua devi stare e qua devi rimanere. Ma io lo sapevo già, perché io sono andata all'ospedale. Lo sapevo già che arrivava questo, che mi portavano a casa e veniva abbandonato. A chi è che vuole fare appello per avere il sostegno di cui ha bisogno? Penso al comune, almeno per uno per fare una rassettata è una cosa. Voi avete visto il bagno in condizioni, non è mai successa una cosa del genere. Perché con tutto ciò che teneva cangrena e venivo da lavorare, mi facevo di tutto. Proprio perché la casa mia, anche scassata, rotta, doveva essere perfetta e pulita. E pulizia non mi mancava. Grazie. 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 Grazie.